Ciao, sono Luigi di Clarintux, un tux per sempre. Benvenuti in questo video. Oggi vedremo come crittografare le email e perché è importante farlo. Seguirò la guida presente sul sito email selfdefense.fsf.org Si tratta quindi di un sito della Free Software Foundation dove ci spiegano passo dopo passo come fare. Per quanto mi riguarda è già la seconda volta che tento di convincere i miei clienti ad usare la crittografia con le email, purtroppo con zero risultati. Ci fosse almeno uno che si sia convinto di usare la crittografia. Incredibile. Ma che dire, riesco solo ad immaginare i livelli di frustrazione a cui arrivano gli aspetti di sicurezza che ci offrono la loro conoscenza e i loro consigli che rimangono sempre inascoltati. Allora, di cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno di un client email, ad esempio Thunderbird o Ice Dove perché utilizza una distribuzione 100% Free Software e di GPG. Per noi utenti GNUX, GPG è già preinstallato. Se utilizzate Windows oppure Mac OS dovete installare una distribuzione di GPG. E sul sito email selfdefense.fsf.org è spiegato tutto. Perché è importante crittografare le email? Allora, intanto per sicurezza. Perché un'email crittografata porta con sé di solito anche una firma. Una firma che testimonia l'autenticità dell'email stessa. Tramite questa firma il ricevente può andar certo che l'email è autentica e viene effettivamente dal mittente. Può andar certo cioè che l'email non è stata manomessa o falsificata in alcun modo. Con la crittografia, inoltre, andiamo a preservare la privacy nostra e degli altri. Nessuno sarà in grado di leggere il contenuto dell'email, a parte il mittente e il ricevente. Infine, con la crittografia andiamo ad aiutare persone che hanno assoluto bisogno della crittografia. Persone che non possono permettersi una comunicazione in chiaro. Sto parlando, ad esempio, di giornalisti che stanno compiendo un'intagine importante o di attivisti. Più persone utilizzano la crittografia e meno queste persone, questi giornalisti, questi attivisti saltano all'occhio. Quindi mi sembra che ci siano soltanto buoni motivi per cui crittografare le email. Ma vediamo di configurare il tutto. Diciamo che crittografare email non è qualcosa di così difficile. Richiede solo una configurazione iniziale di 5 minuti, dopodiché le email verranno crittografate automaticamente e non è richiesta alcun tipo di conoscenza né alcuna configurazione ulteriore. Come vedete a sinistra ho una macchina virtuale con Linux Mint, tra l'altro in modalità live. Tanto Linux Mint ha già tutto preinstallato, tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Di cosa abbiamo bisogno? Beh, come detto, di un client email e di GPG. Come client email in realtà potete utilizzare quello che volete. Ad esempio io utilizzo di solito Neomat, che è un client email da terminale, mi ci trovo bene. Ma qua vedremo Thunderbird, che è sicuramente molto più semplice ed è quello anche utilizzato nella guida di email self-defense. Quindi apriamo Thunderbird, scriviamo un nome, che sarà il nome visualizzato dal ricevente quando scrivete un email. Io scrivete Luigi, ma voi potete scrivere tutto quello che volete. Poi scriviamo l'indirizzo email, io scusate copro un attimo, ok. Quindi voi scriverete il vostro indirizzo email e poi la password. Dopodiché possiamo cliccare su Continua e Thunderbird proverà a configurare la casella email in modo automatico. Di solito ci riesce anche. Aspettiamo ancora un attimo. Ecco, ecco, ecco che ci è riuscito. Quindi possiamo cliccare su Fatto, su Done. E su Finito. Fatto. Quindi abbiamo già la nostra casella email su Thunderbird e possiamo inviare e ricevere email da qui. Fin qui direi che è stata una passeggiata e che chiunque è in grado di aprire Thunderbird, inserire un nome, un indirizzo email e quindi lasciargli configurare tutto automaticamente. Adesso però dobbiamo generare la nostra coppia di chiavi, la chiave privata e la chiave pubblica. Lo faremo con GPG che è preinstallato su praticamente qualunque distribuzione GNU Linux. Quindi apriamo il terminale e scriviamo GPG-full-generate-key e diamo invio. Ci sono diverse opzioni, ci sono diversi tipi di chiavi. Noi sceglieremo quella di default, la RSA. Dopodiché possiamo scegliere la forza della chiave tra 1024 e 4096. Direi di andare al massimo 4096 per avere una chiave molto forte. Dopodiché, stiamo appena creando la nostra coppia di chiavi, dobbiamo scegliere quando la chiave scadrà. Sul sito di email self-defense ci consigliano di impostare due anni, quindi 2y. E' tutto corretto? Sì. Adesso mettiamo un nome, ad esempio metterò Luigi Prova e l'indirizzo email. Aspettate che lo nascondo di nuovo. Esatto. Allora, un indirizzo di prova. Va bene che è semplicemente un indirizzo di esempio, ma lo nascondo comunque. Poi scriverete il vostro indirizzo email. Un commento se volete, altrimenti lasciate vuoto. E a questo punto è tutto a posto, quindi inseriamo una O maiuscola per dare OK. E dobbiamo scegliere una password, ovviamente. Vi consiglio di scegliere una password abbastanza complicata. Comunque io in questo caso, essendo semplicemente un account di prova, vado sul semplice. Ok. Fatto. Adesso il sistema genererà la coppia di chiavi. Già finito. Ok. Adesso possiamo andare a vedere l'id della chiave generata con gpg-list-key. Io nasconderò di nuovo. Ok. Allora. Vedete? Questa serie alfanumerica non è altro che l'id. Lo copiamo. Ok. E adesso possiamo andare a caricare questa nostra chiave pubblica su un server di chiavi. Ce ne sono diversi, comunque non ha importanza su quale server andiamo a caricare, tanto si andranno anche a sincronizzare tra loro. Come andiamo a caricare con gpg-send-key e l'id che abbiamo copiato. Adesso io non lo farò perché si tratta di un account, di un indirizzo email di prova, ma voi potete caricarlo. Stiamo caricando in questo modo la chiave pubblica. Non c'è alcun problema a caricarla su un sito, quindi a rendere pubblica una chiave che è appunto pubblica. È anche consigliato inviarla come allegato ogni volta che inviate un email, in modo tale che il ricevente avrà a disposizione la vostra chiave pubblica. Quella che deve rimanere assolutamente segreta è invece la chiave privata. Quella non la dovete dare a nessuno, dovete mantenerla sempre in un posto sicuro sul vostro computer. Non mettetela su chiavette USB, non state attenti con la chiave privata, ovviamente. Possiamo anche esportare la chiave, la chiave segreta, la chiave pubblica su un file ASC. e lo facciamo con gpc-export-secretkeys-a, poi il k-id, l'id della chiave che avevamo copiato. e redirigiamo l'output su mysecretkey.asc. Dobbiamo inserire la password. Fatto. Poi ripetiamo la stessa operazione per la chiave pubblica, quindi al posto di export-secretkeys andiamo a scrivere solamente export l'id è lo stesso, ovviamente. E poi andiamo al posto di mysecretkey e scriviamo mypublickey. Fatto. A questo punto possiamo anche chiudere il terminale e riaprire Thunderbird. Eccoci qua nella nostra casella email. Dobbiamo cliccare qua sui tre trattini e andare su tools, su strumenti. E poi su Open PGP Key Manager. Quindi apriamo Open PGP Key Manager, andiamo su file e selezioniamo Importa la chiave segreta da un file. Import secretkey from file. Ok. Quindi selezioniamo di nuovo per importare la chiave. E come vedete abbiamo My Public Key, My Secret Key. Selezioniamo My Secret Key. Fatto. Quindi andiamo su Continua. Dobbiamo mettere la nostra password, la password che avevamo scelto, non la password della casella email, ma la password che abbiamo dato a GPG. Ok, la chiave è stata importata con successo. Quindi da questo input in poi siamo pronti per criptare le email. Prima di mandare un'email criptata abbiamo bisogno ovviamente della chiave pubblica del ricevente. Quindi o questa persona ci ha già inviato un'email con in allegato la sua chiave pubblica oppure questa persona ha caricato la sua chiave pubblica su un key server come abbiamo fatto noi. Se ha caricato la sua chiave pubblica beh, possiamo andare a cercarla e poi importarla con GPG con il seguente comando GPG-KeyServer e poi diamo il key server specifico che vogliamo e poi-RECV-Keyes e l'ID della chiave pubblica. A quel punto, se anche lui, se anche il ricevente ha la nostra chiave pubblica beh, il gioco è fatto. Dobbiamo semplicemente inviare un'email questa email verrà cifrata con la nostra chiave privata e con la sua chiave pubblica. Adesso questo non me lo mostrerò voi seguite semplicemente le istruzioni sul sito email selfdefense.fsf.org e c'è anche la possibilità come vedrete c'è anche la possibilità di testare le email cifrate con un bot automatico che risponderà alla vostra email e vi dirà se è in grado di decifrare il contenuto della vostra email oppure meno. Va bene, direi che questo è tutto. Se voi usate le email per motivi di lavoro probabilmente scambierete delle informazioni sensibili con i vostri clienti con le persone magari avrete più fortuna di me e qualcuno configurerà il tutto per criptare le email io vi dico che ogni email criptata in più che invierete o riceverete è già un gran passo è un gran passo per aiutare quei giornalisti e attivisti di cui ho parlato a inizio video e niente questo è tutto per oggi spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima con un nuovo argomento ciao da Clarintux grazie a tutti